. Vela. Yacht Club Sanremo, ottimi risultati nella classe 420 e optimista ad Atene sul lago di Garda. . Yacht Club Sanremo protagonista nello scorso fine settimana. Ad Atene al campionato europeo assoluto 2017 classe 420 con più di 30 nazioni presenti da tutti i continenti, Edoardo Ferraro e Francesco Orlando si qualificano al secondo posto, mentre Tommaso Cilli e Bruno Mantero si piazzano al quinto posto, a conferma delle notevoli prestazioni degli ultimi anni. . Andrea Abruzzese e Fabio Boldrini, più incostanti nelle difficili condizioni del golfo di Atene, hanno raggiunto comunque brillanti risultati nonostante in alcune prove si siano piazzati un po' indietro. . Brillante Yacht Club Sanremo sul lago di Garda. Stessi risultati al campionato europeo Under-19 sul lago di Garda dove Ferraro e Orlando si riconfermano portando a casa un altro argento, negli ultimi tre anni i due giovani atleti non sono mai scesi oltre il quinto posto in campionati europei e mondiali. . 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